Migranti, nave e diciotti, ferma nel porto di Trapani, due indagati per concorso in violenza privata. Salvini, non autorizzo sbarco. Nato, Trump minaccia l'uscita, poi frena e parla di più risorse dagli alleati. Conte dall'Italia no a maggiori spese. La Camera taglia i vitalizi. Fico, fine di un'ingiustizia. Esultano i 5 Stelle e Forza Italia dubbi di costituzionalità. Martina, al Tg1, nulla di concreto nel decreto dignità. Mancano misure per il lavoro sui migranti, propaganda che nuoce. Brexit, Londra pubblica la linea ufficiale del governo, la Premier May stop agli europei in cerca di lavoro. Latina, a 13enne, muore risucchiata da bocchettone nella piscina di un hotel già sequestrato per abusivismo. Il talento e la gioventù dei francesi contro l'esperienza e la qualità di Modric e compagni. Francia-Croazia è l'inedita finale del Mondiale di Russia a Paribli, il sogno di un bis 20 anni dopo.